Oggi sono qui appunto con Teresa Rocca. Ringrazio. Ciao Junio. Ciao Teresa, ringrazio molto di essere qui con noi. Grazie a voi. Per fare due chiacchiere e raccontarci la sua esperienza. Teresa è titolare del centro estetico e ha deciso di fare affidamento con Cosmetics per creare la propria linea personalizzata. Volevo chiedere, avendo avuto diverse richieste e domande, parlando con un'altra tua collega in una precedente pubblica, mi aveva appunto parlato da pura di creare una linea personalizzata. Con noi hai avuto un stesso problema o no? No, no. Come dici tu, altre aziende ti sottopongono comunque a ordini molto più importanti, quindi da parte nostra siamo sempre più bloccati. Quando ho proposto la linea e comunque dicendo che è tutto base termale, quindi di un'ottima azienda come Apunus Cosmetics, diciamo che tutto il resto è venuto da sé, quindi mi sono affidata tranquillamente. Quindi cosa ti ha convinto a fare il passo e farti superare queste due? Sicuramente, sicuramente la clientela quando ti invoglia a fare il passo e si fida di te, quindi la cliente si affida completamente a te, dal momento in cui viene da te è così. E quindi ho deciso di fare questo passo, l'ho fatto e oggi sono molto molto contenta perché comunque ci sono dei bei margini rispetto ad altre aziende dove i margini ovviamente sono molto più bassi. Quindi qua andiamo anche dal produttore, se vogliamo, al consumatore. Sì, credo che in questo modo anche riesci a dare ancora più risalto, al tuo centro, alla tua professionalità. Vuol dire che il prodotto piace e il prodotto viene dato a casa come autocura, quindi viene proprio usato bene anche dalla clientela, quindi è molto soddisfacente anche per loro. E' quello molto importante che le clienti possano continuare il lavoro in cacca, all'istituto a casa. A questo punto ti chiederei di chiudere, quindi consiglieresti questa soluzione di creare una linea personalizzata, termale a un attuale collega, a un centro estetico che ha dubbi su crearsi una sua linea. Io lo consiglio per primo per il principio termale, perché comunque è importante oggi avere una linea cosmetica a base termale.